Domande graduatorie docenti. Certificazioni informatiche. In base a decreto numero 126-2019 convertito con modificazioni nella legge 159 del 20 dicembre 2019 e al DL 2220 convertito con modificazioni nella legge 41 del 6 giugno 2020, la valutazione dei titoli informatici avverrà nel seguente modo. Si valutano tutte le certificazioni informatiche possedute, max 4 certificazioni, e fino ad un massimo di due punti. Il NUR, come confermato nelle FAQ di giorno 24 luglio 2020, ha confermato la validità sia delle certificazioni informatiche che digitali. Di seguito un elenco dei titoli più seguiti ai fini della presentazione delle domande. Asset Scuola ricorda a tutti gli aspiranti docenti che i termini di adesione sono aperti. Corso Coding. Al termine del corso verrà rilasciato un certificato rilasciato da un ente accreditato MIUR e convenzionato con il sindacato Asset Scuola. Codice piattaforma MIUR SOFIA, ID, 41082. Corso LIM. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione rilasciato da un ente accreditato MIUR e convenzionato con il sindacato Asset Scuola. Codice piattaforma MIUR SOFIA, ID, 34382. Corso Tablet. Al termine del corso verrà rilasciato un certificato rilasciato da un ente accreditato MIUR e convenzionato con il sindacato Asset Scuola. Codice piattaforma MIUR SOFIA, ID, 36093. Per aderire invia un'email all'indirizzo Asset Scuola Chiocciola Libero.it. Oppure contattaci ai numeri 800-864-918, oppure al numero 388-861-1942, oppure al numero 327-362-8549, oppure al numero 389-439-5607, oppure al numero 351-988-4845. I nostri responsabili restano a disposizione per fornire i chiarimenti richiesti. Dove.